Musica Nason a tutti e ben ritrovati sul mio canale, io sono Monkey di Andre e oggi vado a fare un nuovo video su Pokémon Trading Card Game Pocket Non farò sbustamenti, non farò gameplay, non vi farò vedere dei mazzi, non vi parlerò di nuovi aggiornamenti E allora direte, allora che cavolo di video stai facendo? Porto questo brevissimo video per farvi vedere una chicca che hanno inserito all'interno di questo gioco che magari non avevate notato Se andiamo a prendere lo Snorlax, l'Oddish, il Bellsprout e il Venonat Vedrete che, come penso che metterò qui a video, creeranno una scenetta Una specie di quadretto, un puzzle se vogliamo chiamarlo così Che si ispira alla scena in cui Snorlax addormentato blocca il percorso 12 nei giochi dei Pokémon, quelli più vecchi Pokémon rosso, verde, blu, giallo, rosso fuoco, verde foglia, let's go Pikachu ed Eevee O se vogliamo fare anche un riferimento a Exodia di Yu-Gi-Oh! potrebbe ricordarlo In questa scenetta ci sono appunto diversi punti di vista Vediamo un Oddish spaventato dall'immagine di questo Snorlax Un Venonat che lo guarda con tranquillità e un bello sprout che scappa via È una piccola chicca che ho letto cercando informazioni su internet Vi lascio qua sotto il link in descrizione di dove ho trovato questa informazione E basta! Voi lo sapevate? Che dire, questo brevissimo video finisce qua Se vi è piaciuto lasciate un grande like Iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina per rimanere aggiornati sui video che usciranno Il like e l'iscrizione soprattutto serve per supportarmi se volete vedere altri video Mi aiuta anche un po' ad andare avanti Visto che questa qui è una mia passione Lo faccio nel tempo libero che mi trovo io E quindi ringrazio davvero tutti quelli che mi stanno sostenendo Vi chiedo di continuare a farlo così io continuo a fare video Vi chiedo anche di seguirmi sulle mie pagine social che lascio qua sotto in descrizione Più che altro Instagram Perché Facebook per me... E sempre nella descrizione troverete il link del gruppo Telegram che ho creato Venite a trovarmi! Basta! Io ringrazio tutti coloro che sono arrivati fino alla fine del video Come al solito e noi ci vediamo alla prossima Ciao! 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 Ciao!